Allora, un momento utopico, per favore creiamo una postera sacrale, nel senso che posso sapere, una postera tranquilla perché Valeria presenta un brano suo. Sei contenta? No. Ha fatto un grave errore, è venuta strani giorni fa. Ho un brano mio, a posto, e siamo qui adesso. La prossima volta lo facciamo anche con la batteria, il primo quanto. Il brano si intitola Leading My Soul di Econiù. Se la canta e se la suona. Se la canta e se la suona. No, la suono io. Se le scritte se la canta. Suoniamo io e Felicio Santo Stasi. Leading My Soul di Valeria Pettisè. 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 It's a while to go away Me and I, what I wanna meet you It's a while to go away A river of tools closing in my mind I wanna lay the world is behind Destroying myself like a great one And someone will carry over my soul It's a while to go away And me and I, what I wanna meet you It's a while to go away And I, what I wanna meet you Within my soul through the memories Within my fall on my broken knees I've been around like a dragon And you wanna rely on my soul It's a while to go away Valeria Perfuzelli Beh, per essere la prima volta Eh? È andata bene? Puoi cambiare i musicisti? Raffaele siamo licenziati Va bene, un altro grande applauso Valeria Perfuzelli Ok, adesso il concerto è finito Ciao Ciao Ciao